Nessuna inaugurazione della nuova stagione scistica a Campo Imperatore e ancora non si sa effettivamente quando si potrà effettivamente sciare, certo per poco, visto che si va inesorabili verso il mese di aprile. I lavori, già partiti con ritardo nel luglio del 2017, si sono conclusi, ma sono stati rallentati notevolmente dalle condizioni del tempo e poi una serie di date ipotetiche. Prima si era annunciato per Natale, poi Capodanno, poi Gennaio-Febbraio e poi ancora rinvii. Il collaudo della seggiovia effettivamente ha avuto un esito positivo, ma mancano ancora il nulla osta per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto dell'Ufficio Speciale per i Trasporti a Impianti Fissi, l'Ustif, e l'autorizzazione alla messa in funzione da parte della Regione Abruzzo e per questo una data ufficiale non è stata ancora stabilita. Insomma, mancano documenti ufficiali. Tante persone avevano intanto comprato gli abbonamenti, che saranno validi a questo punto anche per la prossima stagione invernale, perché questa ormai è rimediabilmente compromessa. Intanto lo storico hotel dove venne imprigionato Benito Mussolini sul Gran Sasso, la cui gestione è stata affidata inizialmente alla società New Edil di Teramo di Francesco Felicioni, poi rescissa il 13 dicembre scorso, sarà chiuso per tutta la stagione, ma si punterà sull'ostello appena restaurato, che sarà gestito, come è noto dalla società Esso Quissi, degli aquilani Daniele e Andrea Mancini, che sono già titolari del ristorante La Capanina Lo Zio dell'Aquila e che gestiranno anche la taverna.